Riconoscere e prevenire le truffe e i reati contro il patrimonio. Tornano così gli incontri organizzati dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale nei centri di aggregazione sociale. Due gli appuntamenti in programma, il 3 maggio al Castortaglia e il 10 maggio invece ad Indicatore, entrambi con inizio alle 21.15. Questa è stata un'iniziativa che abbiamo proposto di fare perché tra i nostri soci del centro di aggregazione di Tortaglia ce ne sono almeno due che ci hanno raccontato lo stesso tipo di truffa fatta per telefono con i nipoti o figli ori che hanno fatto un incidente quando chiedevano soldi quindi siccome i nostri centri di aggregazione sono frequentati prevalentemente da persone, io dico anziani ma poi dico anche diversamente giovani, credo che sia bene alzare il tiro anche dell'attenzione a questo tipo di fenomeno che diciamo che ci sono professionisti del settore. Nel corso degli incontri saranno illustrate le tecniche utilizzate dai malviventi per indurre le vittime a consegnare denaro o altri oggetti preziosi e dei semplici accorgimenti utili per la prevenzione del reato stesso durante la fase esecutiva. Soprattutto per chi facente parte della terza età ha conoscenze informatiche diverse dai nostri giovani ai nostri ragazzi è giusto che questa fascia di età venga informata e venga anche tutelata con la presenza delle forze dell'ordine che possono mettere a disposizione la loro esperienza e raccontare come si può fare a non cadere nella rete di questi trafficanti, chiamiamoli così.